Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro Tg. Vediamo insieme i titoli principali della giornata. Metromare. Si lavora al prolungamento del tracciato verso Misane Cattolica col nodo Riccione. Il sindaco Tosi scrive al presidente della provincia. Coronavirus. Leggero aumento dei casi sia in regione che in provincia. Sale il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. A causa del Covid salta la tradizionale festa del borgo, ma gli organizzatori hanno pensato a qualcosa di unico e alternativo. Domani pomeriggio in diretta su Icaro TV, l'amichevole tra Rimini e Tropical Coreano. Intanto arriva il portiere Under. Il metromare che ha ripreso da poco il servizio dopo lo stop per il lockdown guarda a nuovo versante il prolungamento a sud verso Misano e Cattolica. Oggi si è svolto il primo incontro per definire le tappe del progetto. Per Riccione era presente il capo del gabinetto, mentre il sindaco Tosi ha inviato al presidente della provincia Santi una lettera per spiegare l'esigente del suo comune e il servizio. Per il prolungamento del metromare a Misano e Cattolica comincia ufficialmente l'iter. Oggi è stato stabilito l'avvio del procedimento coordinato dalla provincia che si farà carico di redigere una proposta di abdendum all'accordo di programma con l'assegnazione della progettazione della tratta Riccione Cattolica APMR e la formalizzazione del tavolo politico-tecnico che seguirà la progettazione e la realizzazione dell'opera. Lunedì sarà consegnata la bozza dell'integrazione all'accordo di programma che sarà concordato nel corso della prossima riunione, già fissata per il 10 settembre. Entro il 20 settembre ogni amministrazione porterà in approvazione il documento nei rispettivi organismi deliberanti per poi essere firmato dai contraenti. Intanto PMR si attrezzerà per la progettazione che dovrà essere completata e chiusa entro il 31 dicembre per essere presentata al Ministero per il finanziamento entro il 31 gennaio. C'è però il nodo Riccione. Da Misano il metromare dovrebbe arrivare verso nord dal lungomare, lungoviale Torino e poi deviare per raggiungere la stazione di Riccione. Quello che chiede invece il sindaco Tosi è di lavorare su un collegamento che sia a servizio della direttrice litoranea. Dai camping riqualificati della zona sud, passando per il centro, il Marano, fino alla stazione all'altezza dell'aeroporto in comune di Rimini. Una direttrice, spiega la Tosi, ben più funzionale di quella lungo la ferrovia che, non manca di ricordare ancora una volta il sindaco, tanto deturpamento urbanistico ha causato alla città. Ma pur da posizioni diverse, per una volta le due parti usano toni propositivi. La Tosi parla di leale spirito costruttivo e collaborativo. Santi assicura che il tema posto da Riccione, il collegamento della litoranea col sistema metromare, andrà affrontato e risolto. Passiamo al consueto aggiornamento sul coronavirus. Leggera crescita dei contagi in Emilia-Romagna, così come in provincia di Rimini, dove i numeri restano però contenuti. In Regione aumentano i pazienti ricoverati sia in terapia intensiva sia negli altri reparti Covid del servizio. Sono raddoppiate rispetto a ieri le nuove positività in provincia, tre contro le sei odierne, comunque sempre basse, soprattutto se rapportate alle province di Bologna, Reggio Emilia o Modena. Cresce, seppur di poco, il numero dei contagiati in Regione, oggi 126, così come l'età media dei positivi, 42 anni. Per quanto riguarda i casi nel Riminese, si tratta di tre uomini e tre donne, di cui quattro hanno sintomi, mentre tre sono asintomatici, ma si trovano tutti in isolamento domiciliare. Due sono stati individuati a seguito di sintomi, due per contatto stretto con un caso già accertato e due erano di rientro dall'estero, da Tunisia e Albania. Tre le nuove guarigioni. In Emilia-Romagna resta elevato il numero dei tamponi refertati, infertati, oltre 10.000, come quello delle persone guarite, 122 nelle ultime 24 ore. Altro dato incoraggiante è l'assenza di pazienti deceduti. Da non sottovalutare però l'aumento degli infetti ricoverati. Due in più in terapia intensiva, sono tre dei cin totale, qualche settimana fa erano tre, e sei in più negli altri reparti Covid, complessivamente 114. Dei 126 nuovi positivi, 72 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, segno che l'opera di prevenzione e tracciamento sta funzionando, e 53 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. 29, infine, i casi di rientro dall'estero, 21 da altre regioni. Con il rallentamento della pressione per i ricoveri da coronavirus nei mesi estivi, gli ospedali stanno tornando un po' alla volta al loro assetto originario, anche se nell'incognita di una nuova ondata la priorità è quella di farsi trovare pronti con spazi adeguati per i pazienti. Vediamo. Dopo la riapertura delle otto sale operatorie nel comparto chirurgico Aldea, il Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Nei giorni scorsi le degenze chirurgiche degli infermi sono state trasferite, sempre Aldea, negli spazi appositamente predisposti. Si tratta dei letti delle unità operative di chirurgia generale e ginecologia, riaperti invece nella loro sede storica i letti di chirurgia vascolare. Gli spazi attualmente occupati al padiglione Flaminio, dove si trova il reparto di malattie infettive, saranno allestiti e tenuti pronti in attesa di un'eventuale nuova ondata di ricoveri legati al coronavirus in autunno. Si tratta di 20 posti letto, che si sommano ai 20 delle malattie infettive e ai quali, in caso di necessità, se ne aggiungeranno 50 Aldea e 100 al monoblocco. Per quanto riguarda i letti di rianimazione, in aggiunta al reparto, sarà sempre possibile utilizzare quelli del quarto piano inaugurati a giugno. Novità anche per il comparto operatorio di Sant'Arcangelo. Dopo la parziale ripartenza da alcuni giorni, grazie alla copertura dei turni dei medici e del personale sanitario, l'attività chirurgica del Franchini può di nuovo contare su tutte e dieci le sedute potenzialmente possibili, sei giorni su sette, dal lunedì al venerdì per gli interventi maggiori e attività minore il sabato. Riaperte completamente anche le stanze dell'adegenza, al momento collocate nei locali di quello che diventerà l'ospedale di comunità, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione ai locali del reparto di chirurgia vero e proprio partiti nei giorni scorsi. Il turismo dell'Emilia-Romagna nei mesi centrali dell'estate ha rafforzato la ripresa post-lockdown e quanto emerge dai dati provvisori dell'osservatorio regionale che rilevano anche una voce in crescita rispetto al 2019, i turisti italiani in agosto. Vediamo. A luglio e ancora di più ad agosto il turismo della riviera ha guadagnato un'importante fetta di mercato dopo il crollo dei mesi del lockdown e un giugno ancora titubante quando ancora l'emergenza coronavirus rendeva cauti gli spostamenti. Rispetto ai dati del 2019 un anno da 60 milioni di presenze turistiche in Emilia-Romagna per la riviera la riduzione a luglio è stata del 21,4% per gli arrivi e meno 37% per le presenze numeri che in base ai dati provvisori migliorano ancora ad agosto con un meno 6,6% di arrivi e un meno 6,4% di presenze e gli italiani che crescono rispettivamente sul 2019 dello 0,9% e del 2,8% quasi l'80% di chi nel luglio 2019 ha scelto la riviera per le vacanze è quindi tornato anche quest'anno un andamento ancora più positivo se si considera che in riviera ancora a giugno il calo era del 65,2% per gli arrivi e del 73,3% per le presenze e dati da leggere nello scenario inedito di quest'anno in molti hanno preferito ridurre il numero dei pernottamenti e diversi alberghi con percentuali differenti tra città e città hanno comunque scelto di non aprire nuovo blitz dei carabinieri nelle colonie riminesi i militari sono entrati in azione all'alba di oggi passando al setaccio la murria a Bella Riva e l'ex Enel a Riva Azzurra sette le persone identificate dentro le due strutture un'italiana le altre straniere tutte senza fissa dimora sono state denunciate per danneggiamento e invasione di edifici all'interno dei due stabili avevano realizzato dei dormitori di fortuna utilizzando vecchi arredi recuperati con tutta probabilità dei cassonetti della spazzatura le condizioni igienico-sanitarie erano pessime dei sette abusivi uno è stato arrestato per essere rientrato nel territorio nazionale dopo essere stato espulso nel 2017 proprio la scorsa settimana i carabinieri avevano rinvenuto nell'ex colonia Enel il cadavere di un 33enne senegalese che spesso si rifugiava all'interno morto per cause naturali eliminazione degli arredi non indispensabili e lavori di adeguamento è attraverso queste operazioni che il comune di Riccione sta preparando le scuole di sua competenza alla riapertura la giunta ha approvato uno stanziamento di 130 mila euro per i lavori di sistemazione che hanno riguardato entrambi gli istituti comprensivi questa mattina ad aspettando mattinate in blu estate abbiamo fatto il punto con il sindaco di Riccione Renata Tosi abbiamo incontrato i due nostri istituti scolastici ci siamo confrontati più volte e abbiamo appunto messo in campo tutti quei piccoli e grandi lavoretti che permetteranno ai ragazzi di Riccione di frequentare serenamente le scuole elementari e le scuole medie perché anche su questo vorrei precisare i comuni hanno la proprietà solo degli immobili scolastici fino alle scuole medie quali sono state le situazioni più complicate insomma da risolvere abbiamo dovuto semplicemente demolire qualche parete interna alle aule soprattutto nell'istituto comprensivo numero uno nel complesso scolastico di San Lorenzo sia per le elementari che per le medie perché vi era una conformazione particolare dell'aula che godeva in passato ahimè di una separazione tra il guardaroba e l'aula e ad oggi invece abbiamo preferito mantenere logicamente l'uso del guardaroba ma eliminando la perete ci siamo permessi appunto di avere maggiore distanziamento tra i banchi e quindi accogliere assolutamente tutti per quanto riguarda la mensa che è una è di competenza comunale ci siamo appunto indirizzati verso un servizio al banco e quindi una mensa in aula e era già in atto in alcuni istituti con insomma perfetto godimento da parte degli alunni e anche soddisfazione per i genitori quindi non credo che sia un disagio ma Settini secondo me cauti e responsabili ci porteranno piano piano invece ad una normalità vera non potendo realizzare la tradizionale festa dei borg per l'emergenza sanitaria al borgo San Giuliano di Rimini si punta su una non festa che diventa occasione di incontro e memoria della tradizione l'appuntamento sarà il 12 settembre vediamo di cosa si tratta Fellini e il suo borgo che in realtà non lo è è una festa che non c'è gioca simpaticamente sui negativi la società dei borg che quest'anno non potendo organizzare un grande evento al borgo San Giuliano ha pensato di puntare tutto sull'identità di un luogo che in ogni angolo parla di storie e di borghigiani dai caratteri vivaci lo farà con uno sguardo ai vecchi e nuovi murales che di quelle identità felliniane non solo sono una felice narrazione nella difficoltà del momento abbiamo pensato comunque di portare a termine delle parole degli impegni che avevamo preso uno era quello dei murales che è un progetto che già da tempo stavamo accarezzando di riprendere il discorso e l'altro era comunque omaggiare Fellini perché in questi 40 anni di società dei borghi di feste del borgo comunque è sempre stato un motivo di ispirazione per tante iniziative io penso che il spirito di questo borgo veramente è stato sempre un po' anartico un po' eclettico un po' questa buona pazia felliniana che si sente in una percentuale più grande qua nel borgo il nonno che dice ma dov'è che sono è quel nonno che esce davanti alla casa sua e si perde nella nebbia è un monologo poetico per la vita per la morte c'è da dire che erano tutte persone con caratteri decisi sicuramente incisivi particolari perché oggi abbiamo una bulimia di immagini di parole di figure e quant'altro a quel tempo insomma chi invece aveva un carattere forte lo si notava molto bene e lo si ricordava sabato 12 settembre da pomeriggio a sera ci saranno diversi appuntamenti un tour per il borgo alla scoperta dei nuovi murales una video installazione sui murales scomparsi un documentario e un brindisi a Fellini proprio a registi e alla sua fantomatica casa nel borgo è dedicato anche un contest fotografico per instagramer dal titolo Fellini Fake Home per dare eco a una domanda ricorrente dei turisti che stanno sempre più frequentando il borgo era qual è la casa dei Fellini allora sappiamo tutti che Fellini non è mai abitato nel borgo né ci ha vissuto però in qualche maniera un gioco ci prestava a volte uno dice una casa una dall'altra adesso la istituzionalizziamo la casa falsa dei Fellini nel borgo e d'altra parte Fellini giocava su queste cose qua anche sull'immaginario Passiamo ora allo sport sarà una vera amichevole e non solo più un allenamento congiunto quello tra Rimini e Tropical Coriano in programma domani alle 17.30 a Romeo Neri la partita sarà trasmessa in diretta su Icaro TV e in streaming sul sito icaroplay.it e sulla pagina Facebook di Icaro Sport la società biancorossa intanto ufficializza oggi l'arrivo del portiere Saverio Viscardi classe 2002 originario di Napoli sarà il vice di Scotti intanto Scott Arlotti ha trovato ufficialmente casa al Monopoli Lega Pro in un post su Facebook ringrazia società tifosi e non solo Rimini sarà per sempre la mia città scrive è tutto vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona serata grazie per la visione